Salve a tutti amici e amiche rider, oggi facciamo un video un po' diverso dal solito Come avrete potuto notare è finita la saga, la serie sul mio giro d'Italia Un'esperienza davvero fantastica, ogni tanto riguardo io stesso i video e dico Madonna, sono stato proprio un pazzo scriteriato a fare una cosa del genere Beh, se non l'avete ancora visto vi lascio qui sopra nella i Alla vostra destra la playlist che contiene tutti i video Io ho un totale di 12 anche se in realtà i giorni effettivi di viaggio sono molti di meno Questo perché la prima parte ho diviso la giornata in due Quindi in due momenti, la mattina e la sera quando poi arrivavo a destinazione Se no venivano dei video troppo lunghi e sarebbe stato tedioso per voi Spero che vi sia piaciuto, se avete critiche, suggerimenti, migliorie che si possono effettuare Nonostante sia la prima volta che affronto un viaggio da solo Facendo video e quindi dovendo anche immedesimarmi a capire cosa vi piaceva e cosa no E sono consapevole che ci siano dei limiti tecnici dovuti a assenza di tempo, fretta, inesperienza Beh, spero comunque di aver fatto il mio meglio e di avervi trasmesso tutte le emozioni Che sono riuscito a racimolare in questi giorni di viaggio Che ahimè mi mancano, adesso proprio quando sto registrando questo video è dicembre e sta piovendo fuori E sono tristissimo perché ho anche sospeso l'assicurazione della moto Perché qui a nord purtroppo le temperature per me sono troppo rigide e mi si ghiacciano gli arti E non è il caso di tenere aperta l'assicurazione per sfruttare una singola giornata di sole in un mese Se aspetterò mi sa aprire per riaprirla ma in questo lasso di tempo non mancheranno comunque contenuti Anche perché sto preparando un altro viaggio molto molto interessante insieme alla Zavorrina Per l'estate prossima andremo fuori dall'Italia ma non vi dico ancora dove Chi mi conosce lo sa già ma voi che mi seguite non lo saprete fino a un bel po' di tempo Ma bando alle ciance, iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto Iniziamo con i costi, vi ricordo che il viaggio ha avuto dei criteri ben precisi Ovvero quello di evitare l'autostrada e tranne nell'ultima parte quando ho fatto poi la sorpresa alla Zavorrina Per esigenze di tempo e quindi ho fatto semplicemente tutta la costa all'andata E un percorso un po' più ardigogolato al ritorno fino a Fermo E poi da Fermo quindi da Ancona fino alla Liguria ho fatto l'autostrada al ritorno Solamente quel tratto lì sono circa 700 km Il primo giorno fatti circa 693, circa 700 km Quindi due pieni di benzina per un costo totale di 10 euro di pranzo Avevo preso della focaccia, 40 euro di benzina, 68 euro di hotel Ho dormito al Mercure Roma West, un ottimo hotel Tra l'altro hanno una colazione eccezionale E ho fatto cena in hotel per un costo, mi sembra di aver pagato all'incirca 25-30 euro Perché ho preso la birra, il dolce e un primo, una carbonara Per un totale di 148 euro il primo giorno Medi fortunatamente non è una moto che consuma tantissimo Mi fa circa i 20-25 km al litro Con un pieno diciamo sono 14-15 litri Riesco a fare 300 km Quindi corrisponde in maniera piuttosto precisa alla realtà Per quanto riguarda poi seconda giornata da Roma Sono andato fino a Villa San Giovanni Non mi sono fermato a pranzo quella volta lì Perché avevo proprio i minuti contati Infatti sono partito alle 8 e mezzo del mattino E sono arrivato alle 9 e mezzo di sera Godendomi un fantastico tramonto poi sulle coste della Calabria Ma anche tantissimo traffico con clip che non vedrete Almeno non vedrete per quanto riguarda la parte parlata Ma magari ne vedrete adesso qualcuna in sovrimpressione Sempre di benzina circa 40 euro Sono circa 2 pieni e qualcosina in più 60 euro di hotel Non l'ho prenotato tramite booking Ma sono arrivato diretto Hotel della Conca si chiamava Bel posto, carino, si vedeva il mare E poi a cena ho speso anche lì mi pare 20-25 euro Ho preso il menù completo C'erano antipasti, un piatto principale E la birra e l'acqua Per un totale di 120 euro Mentre il 31 luglio Il tragitto è stato leggermente più breve Perché ho preso il traghetto la mattina Traghetto che è costato circa 15 euro Da Villa San Giovanni a Messina E poi ho fatto solamente una Meno di un pieno Ho fatto circa una trentina di euro di benzina Per un totale di 45 euro Quindi il viaggio dell'andata Sviluppato su tre giorni Per un totale di circa 1700-1800 km Ha avuto un costo di 313 euro Quindi circa 300 euro come preventivato Questo diciamo quindi 100 euro al giorno Tra benzina, mangiare, acqua E tutte queste cose qua Ovviamente è un costo indicativo Se fate l'autostrada ovviamente spenderete un po' di più Se avete una moto che consumano un po' di più Spenderete di più Ma magari vi può servire per avere un'indicazione E' quello che serve per andare da Torino fino a sud della Sicilia Attraversando quasi tutta la Sicilia Passando invece al viaggio di ritorno Beh, il 5 agosto sono partito Sono partito in realtà di mattina Ma io ho fatto pranzo con i miei amici Quindi non l'ho contato Perché non mi sembra giusto In realtà potevo partire benissimo alle 6 Da casa mia al traghetto ci vuole circa un'oretta Per cui diciamo che di benzina Ho fatto solo il pieno prima di partire Perché ovviamente in Sicilia poi mi sono mosso Ho consumato benzina E prima di partire ho voluto fare il pieno Così non dovevo farlo il giorno dopo Quindi 18 euro di pieno A cena ho mangiato un panino sul traghetto Sono stati circa 8 euro Mentre il traghetto Prendendo il posto sul ponte E lasciando la moto Mi è costato 46 euro Quindi un totale di 72 euro il 5 Il 6 agosto poi sono arrivato a Napoli Ho fatto colazione con il mio amico Tony Che ha una Fazer 1000 E me l'ha offerta lui Ma diciamo che sono circa un paio di euro Per cui non l'ho contato Abbiamo preso brioche e caffè Per cui insomma una cifra veramente minima Dopodiché mi sono spostato da Napoli Fino ad arrivare a Bari Sono all'incirca 320 chilometri Ci ho messo 5 ore Perché le strade non erano proprio ottimali Di benzina ho speso circa 30 euro Ho fatto pranzo da Italy A Bari per circa 20 euro E poi a cena altri 15 euro Per cui un totale di 65 euro Come vi ricordo Non ci sono caselli Perché non ho fatto autostrada In alcun modo Il 7 agosto Sono rimasto poi a casa di un mio amico Per questo non ci sono i costi La notte tra il 6 e il 7 Sono rimasto a casa di un mio amico Saverio Per cui per quello Non ci sono costi dell'hotel Il 7 agosto Poi sono ripartito di pomeriggio Per andare fino a Frosinone Dove ho poi incontrato il mio amico Stefano Anche lì circa 30 euro di benzina Tra l'altro l'avevo trovato 1,48 Prezzo più basso mai visto 50 euro di hotel In singola E 15 euro a cena Quindi 95 euro Spesi per tutto il giorno L'8 agosto In questo caso ho messo Sia il costo della benzina Del tour dell'Umbria Del tour dell'Abruzzo Sia quanto mi è costato Andare da Frosinone Fino a Porto San Giorgio Dal mio amico Axel Sono circa 50 euro di benzina Ne ho fatti davvero Tanti chilometri Quel giorno ero esausto Non me lo scordo più Abbiamo speso circa 10 euro A pranzo Dei tranci di pizza E nulla di più E a cena altri 15 euro Perché ho ripreso di nuovo la pizza Per un totale di circa 75 euro Il 9 agosto poi Anche in questo caso Non c'è il costo dell'hotel Perché mi ha ospitato Il mio amico Axel E sono ripartito di pomeriggio In autostrada Nonostante ho fatto 700 chilometri Ho consumato un po' di più Perché Mary ad alte velocità Consuma di più Quindi sono circa 60 euro di benzina Il casello mi è costato 48 euro e pochi centesimi in più Mentre il mazzo di fiori È costato 12 euro Per un totale di 120 euro In totale quindi Il viaggio del ritorno Mi è costato 427 euro Per un totale Tra il viaggio dell'andata E il viaggio del ritorno Di circa 750 euro Quindi considerando le tappe Le fermate E i pranzi E le cene Che ho fatto 750 euro Di cui circa 308 di benzina Considerate che sono circa 4000 chilometri Poco più E la mia moto fa Appunto Ha un consumo molto basso Di in media 25 chilometri al litro Anche un po' di meno Se non sgasi di brutto Se non tiri fuori i giri Ma avendo fatto statale In cui il limite Era la maggior parte 70 E la maggior parte delle zone Era pieno di velox Ho rispettato il limite Viaggendo in sesta 3-4 mila giri Sono riuscito a ottenere Consumi davvero davvero bassi Ovviamente se volete fare Il tour con una super sportiva Consumerete molto di più di benzina Però insomma Poco meno 750 euro Per fare 4000 chilometri Mi sembrano una cifra Piuttosto onesta Questa è la dimostrazione Per come per viaggiare Non c'è poi bisogno Di avere budget E chissà che elevati Potete Ovviamente Non andrete nell'hotel a 5 stelle Non mangerete super lusso Ma se vi adattate un po' Riuscite a contenere i costi A vivere un'esperienza Davvero al top Del top A questo Bisognerà aggiungere ovviamente Un tagliando Il costo di un tagliando Per la vostra moto E un set di gomme Perché dopo 4000 chilometri Non dico che finite le gomme Però le fate arrivare Tranquillamente A fine vita Io Ho cambiato gomme Quando ero giù Sono passato Dalle Dallopo Sportmart 2 Max Alle Pirelli Angel GT Che hanno adesso Circa 7000 chilometri E che sono in condizioni Ancora decente Secondo me Alti 3000 chilometri Riescono a farle Ma Finiamo il video Questo è il totale Del costo Del giro d'Italia Vi lascio Come vi ho detto La playlist Qui sopra In alto a destra Per rivedere Tutte le puntate Per rendervi conto Di quanto costa Effettivamente Fare un viaggio del genere Nel frattempo Buon Natale Perché siamo in pieno Periodo natalizio Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Fatemi sapere nei commenti Qui sotto Cosa ne pensate Di questo video E se vi è piaciuto Sapere quanto mi è costato Effettivamente il viaggio E intanto io preparo i viaggi Dell'anno prossimo Ciao Ciao